. Con Nicola Sarkozy il sesso è fantastico, Carla Bruni svela un particolare hot sul marito foto, video. Confessione hot di Carla Bruni, con Nicola Sarkozy il sesso fantastico. . Carla Bruni ha appena rilasciato il suo ultimo lavoro discografico, French Touch, ma si sta parlando di lei non tanto per la sua musica quanto per un particolare hot sul marito. Con Nicola Sarkozy il sesso fantastico ha dichiarato infatti durante un'intervista al sito Refineri 29. . Come riporta il Corriere della Sera, la bellissima ex premier Dame dell'Eliseo ha raccontato di essere cambiata parecchio dopo la gravidanza, e che ha trovato il giusto equilibrio con il marito. . Sì, sono ancora attratta dal mio uomo e immagino che lui sia sempre attratto da me, dopo questi dieci anni ha confessato Carla Bruni a proposito dell'ex presidente francese. . Attrazione alle stelle, con Nicolas Sarkozy sesso fantastico. . . . In un matrimonio bisogna provare sia desiderio sia amicizia per il proprio partner ha aggiunto, poi ha ammesso facciamo ancora del sesso fantastico. . Il segreto per un'intesa perfetta a letto con il proprio partner, secondo quanto dichiarato nel corso dell'intervista, è mantenere una certa dose di mistero altrimenti pian piano si rischia di cedere al tradimento. . Penso anche che bisogna essere molto attratti dalla persona che si sceglie. . Quando l'attrazione svanisce e il mistero scompare, è qui che cominci a voler tradire e mentire ed è l'inizio della fine. . Immaginiamo che da quando Sarkozy non è più il capo dell'Eliseo, il sesso sia ancora più fantastico. . L'ex top model Bruni ha infatti rivelato che quando era presidente della Repubblica aveva paura che qualcuno potesse attentare alla sua vita. . . .